C'è il prete in chiesa che sta a dire la messa, a un certo punto gli fa fedeli. Chi di voi perdonerebbe il proprio nemico? Tutti alzano la mano, meno che una vecchietta. Gli fa, tu, perché non alzi la mano? Perché non c'ha nemici. Dice, ma quanti anni ha? 98. E beh, 98 anni mi vuol dire che non ha mai avuto un nemico. No, perché ho sempre pregato Dio e Dio mi ha ascoltato e ha fatti morire tutti questi pezzi di me. Grazie.